Con il sindaco di Costa Volpino, Laura Cavalieri, siamo al punto del versamento dell'ICI. Siccome tutta la campagna elettorale, soprattutto, non tutta proprio, però soprattutto la campagna elettorale è stata puntata dalla vostra lista, vincente poi, sul fatto che non avreste fatto pagare l'ICI sulla prima casa, zero, annullata l'ICI. Adesso siamo al punto in cui si dichiara si deve versare l'ICI, devono versarla o no? No, allora i possessori di prima casa non devono versare l'ICI, l'ufficio tributista... Non neanche presentare il bollettino? No, sono completamente esonerati dal pagamento del l'ICI, tutti gli altri invece devono pagarla, questo va detto perché è solo riferito ai possessori di prima casa l'esenzione dal pagamento del l'ICI. Dicevo, l'ufficio tributi sta spedendo a tutti i nostri contribuenti una lettera, un invito e una nota informativa perché alla prima casa spesso sono allacciate delle pertinenze. Le pertinenze sono i garage, cantine, tettoie, insomma locali che sono di pertinenza. Allora, dalla casa per essere considerati pertinenza, se uno ha la casa da una parte il suo garage, da tutt'altra parte quella non è una pertinenza, per cui è soggetta a ICI. Ci sono molti dubbi, per cui l'invito è quello di leggere attentamente questa indicazione che l'ufficio sta spedendo, se il contribuente è nel dubbio meglio fare una telefonata di accertamento che pagare per poi pensare di essere rimborsato perché questo creerebbe delle difficoltà. Sì, perché poi i rimborsi per gli enti locali sono lunghissimi e difficilissimi, quindi è meglio non pagare. È meglio non pagare, è meglio se si hanno dei dubbi pagare, cioè informarsi e poi pagare. Per chi non pagherà e ci saranno gli accertamenti nei prossimi anni è chiaro che poi scatterà... Ma soprattutto gli uffici che in genere compilano per tutti i cittadini. Gli uffici per cui i patronati, i sindacati, i commercialisti hanno tutti ricevuto le indicazioni, sanno esattamente per tempo, già da quando il Consiglio Comunale ha licenziato questa esenzione, sanno per tempo come dare indicazioni ai contribuenti, per cui chi lo fa di mestiere lo sa. Allora non ci dovrebbero praticamente essere problemi. Ma chi non lo fa di mestiere e si arrangia perché l'ha sempre fatto, deve non farlo. Quindi avete mantenuto, questa è la sottolineatura che vuoi fare, avete mantenuto una promessa che sembrava irrealizzabile perché si diceva che la legge non consentiva una via d'uscita. No, la legge lo consente, l'amministrazione l'ha trovata in equa come tassa, l'ha completamente tolta. Siete il primo comune che lo fate? No, forse qualcun altro, credo nella provincia di Bergamo il primo. Quindi va bene, rivendichi questo, a un anno di distanza dalla rielezione, mantenuta la prima cosa. Una è fatta, sì.